Ciao e benvenuti nel nostro canale. Leggiamo il messaggio della Madonna di Zaro a Simona 26 giugno 2023, ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale e mettere un mi piace a questo video. Ci aiuterai a diffondere i nostri messaggi ai fedeli. Ho visto mamma, era vestita di bianco con una cintura d'oro in vita, sul capo la corona di dodici stelle e un velo bianco, sulle spalle un manto azzurro che le arrivava fin giù ai piedi che scalzi poggiavano sul mondo. Mamma aveva le braccia aperte in segno di accoglienza e nella mano destra una lunga corona del santo rosario fatta di luce. Sia lodato Gesù Cristo. Eccomi figli miei, giungo ancora una volta in mezzo a voi per chiedervi preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, preghiera per questo mondo sempre più preso dal proprio io e sempre più lontano da Dio. Figli miei tanto amati, ritornate al Padre, egli nel suo immenso amore è pronto ad abbracciarvi, consolarvi, amarvi. Figli, non c'è peccato che se confessato non venga perdonato, riconciliatevi con il Padre, ritornate a Lui. Figli miei, vi amo di un amore immenso e voglio vedervi tutti salvi. Figli, non allontanatevi dal mio cuore immacolato, vivete i sacramenti. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.